Dello Stragone Folle è rimasta oramai un'ombra. Le terre da lui soggiocate sono libere dalla sua follia, ma ancora pericolosa per le genti comuni. C'è bisogno di eroi che liberino quelle terre, quindi vieni, il tempo è giunto. Io sono Giuliano, un appassionato di giochi di ruolo e narratore e questo è Merlin, il luogo dove facciamo quattro chiacchiere proprio su questi giochi. Shadow of Weird Wizard di Robert Schwalb per la Schwalb Entertainment è la nuova uscita del prolifico autore americano e arriva sui nostri tavoli dopo una bella raccolta fondi. Il manuale si presenta nel consueto formato lettera americano, quasi 1 a 4, full color e pieno di elementi decorativi. Tutto l'impianto grafico è di assoluto livello, sempre ben leggibile, sempre tutto a portata di mano con un'esposizione al solito dei prodotti della casa americana, facile da acquisire. Il formato interno è il più classico a due colonne, che sfrutta al meglio gli spazi concessi dalle dimensioni del manuale, che si presenta con le sue 270 pagine. Tutte le illustrazioni sono di ottima qualità e forse giusto qualcuna sembra essere un po' sottotono, ma qui molto lo fa il proprio gusto personale. Per concludere, la tipografia è molto piacevole, con un testo ben spaziato, areoso e con colori molto delicati, che non infastidiscono per nulla la lettura, soprattutto sui dispositivi elettronici che, ahimè, è l'unico modo che ho avuto per poter leggere questo gioco, dato che non ho potuto prendere la versione cartacea. Shadow of a Weird Wizard segue il principio e il regolamento di Shadow of the Demon Lord, ovvero prendi un D20, somma, bonus, malus e confrontalo con un numero o bersaglio, definito dal GM. E se il valore è superiore o uguale, allora il tuo personaggio è riuscito a superare il conflitto con successo, altrimenti è stato un fallimento. Tutto il gioco è basato su questo unico, semplice assunto. Un solo tiro di dato per tutte quelle situazioni dall'esito incerto. Ciò che contraddistingue questo regolamento sono tanti dettagli banali quanto immediati da comprendere e da applicare, come i vantaggi e gli svantaggi, i tiri fortuna, le condizioni e, la cosa che più credo meravigliosa in assoluto, i personaggi. I vantaggi e gli svantaggi sono un elemento caratteristico e anziché tirare più dati uguali, scegliendo i migliori o i peggiori, tirerete tanti di 6 quanti vantaggi e svantaggi avrete, sapendo che ogni vantaggio annulla uno svantaggio. In funzione di quantità di sono rimasti, sceglierete il singolo dato più alto di tutti e, nel caso foste in svantaggio, allora sottrarrete quel valore, altrimenti lo aggiungerete al vostro tiro base. I tiri fortuna, invece, sono quei tiri speciali per situazioni al limite, dove non c'è una vera e propria abilità da usare, o un oggetto con cui prendersi, o addirittura un nemico che può difendersi. Il tiro fortuna sovraintende tutte quelle situazioni un po' ibride, come per esempio superare un effetto di qualche tipo che ci affligge. Solitamente, questi effetti e condizioni hanno la dicitura luck end e, di fatto, si tirano solo alla fine del proprio turno. Ad ogni modo, la risoluzione segue il normale hater. Tiri contro 10, se fai di più l'effetto termina, se fai meno l'effetto dura ancora fino al tuo prossimo turno, almeno. Le condizioni sono un altro elemento caratteristico di questo regolamento e si ottengono nelle maniere più disparate e spesso supportano anche la perdita di punti ferita, ma aiutano anche ad identificare meglio lo stato del vostro personaggio. Le condizioni sono delle vere e proprie etichette che fanno qualcosa al vostro personaggio. Si può essere accecati, confusi, maledetti, avvelenati, deboli, malati e così via, e questo si riflette solitamente in svantaggi da applicare durante le proprie azioni. Insomma, una situazione in cui il vostro personaggio può infilarsi viene gestita con rapidità e funzionalità, senza starci a girare troppo intorno. A questo punto, però, chi è il vostro personaggio? Ecco che qui entra la parte di Shadow of the... Shadow of the Weird Wizard, che preferisco, che poi so simili come due rosette. Un personaggio è composto da alcuni fattori numerici, solo cinque. Dalla propria scendenza, dalla propria professione e dal grado di conoscenza della vostra professione. I fattori numerici sono quattro attributi, più il livello e più nel dettaglio sono i canonici forza, volontà, intelletto e agilità. Questi parametri fanno fondamentalmente tutto ciò che muoverà la parte meccanica del vostro alter ego, perché tutto il resto sarà il definire chi siete, in che modo vivete, come vi comportate, eccetera, eccetera, eccetera. In che modo? Semplice. L'ascendenza vi dice chi sono i vostri avi, come siete nel mondo, qual è la vostra genia e definisce il vostro aspetto. Non troverete in questo manuale altro al di fuori degli esseri umani, ma potrete sentirvi liberi di avere scagli, artigli, la pelle blu, perché di fatto qui sono gli esseri umani e tutte le sue sfumature a cercare di fare qualcosa nel regno del Weird Wizard. La professione è invece ciò che fate nel mondo, qual è il vostro ruolo, tipo un accademico, un militare, un aristocratico e così via. Questo aspetto specifico poi vi indica l'esperienza che avete maturato, fino a questo momento specifico, cosa avete imparato e anche il tipo di interazione che avete con le persone. A tutto questo si intreccia in molti aspetti il sentiero, ciò che vi rappresenta meglio e ciò per cui siete più portati. Fondamentalmente è proprio una linea di condotta che non è un marchio ad vitam, ma certamente è quello che vi ha caratterizzato fino a questo momento. Per semplificare sarete un guerriero, un mago, un sacerdote o un furfante. 4 macro aree che vi daranno una direzione dei benefici e dei talenti, ma che con l'esperienza potrete abbandonare o rafforzare, perché fino al momento dell'inizio dell'avventura voi siete dei semplici novizi. Diventare esperti vi qualifica ancora di più in un determinato ambito. Potreste aver seguito il sentiero del guerriero come novizio, per poi migliorare la vostra capacità di guida sul campo di battaglia fino a diventare un comandante, o magari diventerete un abile segugio in grado di non perdere le tracce di malvagie creature, oppure ancora avreste potuto vedere il potere divino fino a diventare una guida spirituale o il braccio armato di quell'ordine monastico. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. L'ultima menzione la faccio al grado maestro e alla sua magia. La maestria, in un determinato ambito, è il grado più alto di un'abilità, una specializzazione assoluta in qualcosa che sappiamo fare meglio di chiunque altro, e si potrà accedere ad oltre 100 possibili vie, e se consideriamo che il grado esperto ne ha altre 50 circa, beh, si potrà personalizzare il proprio personaggio all'infinito. La magia, in Shadow of a Weird Wizard, è altrettanto incredibile perché è possibile accedere ad oltre 30 tipi di conoscenze, ognuna estremamente personalizzata e coerente, e si va dall'alchimia alla tecnomanzia, passando per la prima eva, l'ordine, l'invocazione e così via. Cos'altro vi serve avere per poter giocare? Ah giusto, sapere qualcosa di più sul mondo. Nel cuore pulsante di un mondo sconfinato, tra le pieghe di una terra inesplorata e selvaggia, si cela il regno dell'oscuro Weird Wizard. Una figura avvolta nel mistero, la cui presenza ha tenuto a bada per secoli l'avanzata di esploratori e coloni, oltre le terre di confine. Queste regioni, collocate tra i cosiddetti nuovi territori e le terre illuminate dalla cultura, dalla legge e dall'ordine, sono state testimoni di una storia tanto ricca quanto torbida. I popoli fuggiaschi del vecchio paese, sospinti dal caos e dalle guerre civili, che hanno dilaniato il grande regno, si riversano in queste terre, cercando rifugio e una nuova speranza. Ma il Weird Wizard, colui che con i suoi poteri eldritici ha plasmato creature abominevoli e bestie ibride, ha lasciato un vuoto misterioso con la sua scomparsa. La sua ombra perdura, eppure nessuno sa dove sia finito, lasciando dietro di sé solo domande e il timore di ciò che il suo regno nasconda. Earth, il mondo su cui si svolge questa epopea, condivide molte caratteristiche con il nostro. Foreste, montagne, pianure ondeggianti, mari, fiumi e oceani, ma è anche un luogo dove la magia e le creature fantastiche sono parte integrante della vita quotidiana. Nani, fate, costrotti e draghi condividono questo mondo con gli umani, in un tessuto sociale dove le distinzioni fisiche sono letteralmente rilevanti di fronte alla comunità. La magia permea ogni aspetto di Earth, essendo tanto parte della vita quotidiana quanto oggetto di timore e rispetto. Allo stesso tempo, l'innovazione tecnologica cerca di trovare il suo spazio, offrendo speranza di rinascita tra le rovine della guerra che hanno devastato il vecchio paese. Gli dèi camminano tra i mortali, intervenendo nei loro destini, mentre il ciclo di reincarnazione governa l'essenza stessa dell'essere, promettendo rinascita dopo la morte e un eterno ritorno. Eppure, l'ombra del Wild Wizard continua a gettare dubbi e pericoli, con antiche divinità prigioniere che sognano vendetta e imperi caduti che ricordano la fragilità delle civiltà. Questi nuovi territori, ora privi del loro sovrano oscuro, si aprono ad un'era di esplorazione e di sfide. Strutture misteriose, paesaggi che sfidano la realtà e creature mai viste attendono coloro che osano avventurarsi oltre il conosciuto. È un tempo che richiede eroi, individui pronti a fronteggiare le insidie e a scoprire i segreti di un mondo che giace nell'ombra del Wild Wizard. Lo sanno pure i sassi che adoro i lavori di Robert Schwalb, e Shadow of the Demon Lord è stato uno di quelli che mi ha dato più soddisfazioni, pur avendo giocato tanta altra roba che ha creato. Shadow of the Weird Wizard mi ha entusiasmato più che altro per la sua natura classica, meno azzardato e dark del fratello maggiore. Mi ha divertito sia per la premessa di avere un gruppo di avventurieri che vanno per ripulire e riqualificare terre maltrattate dallo strego di folle, sia per la sua semplicità nel regolamento che si percepisce essere quella del famoso Shadow of the Demon Lord, con un lifting niente male. Inoltre, la partecipazione alla Open Beta mi ha permesso di vedere come procedesse la costruzione di un mondo molto vasto. Mi ha colpito in modo positivo il fatto di non avere razze particolari all'interno del mondo, trattando fondamentalmente la diversità in un modo estremamente semplificato. Però, per i più esigenti, c'è un modulo aggiuntivo che può arricchire questo aspetto, Secrets of Weird Wizard. Bene, a questo punto vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, ricordati di seguirci sui nostri vari social e di lasciare un mi piace oltre che iscriverti a questo canale. Da Giuliano è tutto, Kali il Sibario! Grazie a tutti!